Allora ragazzi, non pensavo di poter iniziare questo video sinceramente così ma Ronaldo Junior è seriamente in pericolo Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo, anzi nuovissimo video che fa parte della seconda parte, scusate il gioco di parole del video di Annabelle dove tanti mi avete chiesto la continua la seconda parte di quello che abbiamo visto dove nella prima parte Ronaldo Junior e i suoi amici sono avventurati nel cimitero hanno trovato Annabelle, sono stati stregati e poi magicamente sono ritornati esattamente dove erano il problema è che adesso ragazzi ci sono dei problemi seri a Ronaldo Junior non sappiamo bene cosa sta succedendo quindi adesso cerchiamo un attimino di capire quello che sta succedendo, inoltre come sempre il video mette un bellissimo pollicione in su mettete mi piace, iscrivetevi al canale, condividete il video con i vostri amici e seguitemi tutti quanti su Instagram, tanto ci mettete solamente due secondi vi basta cercare chiocciola di Anthony, venite a seguire ragazzi così potete vedere tutte le news riguardanti me, GTA, i video, Ronaldo Junior e tutto quanto quindi mi raccomando non mancate allora c'è una prestazione da risolvere adesso allora ragazzi come vi ho detto qualche secondo fa la situazione è tragica perché siamo a casa sotto casa di Francis e a Los Santos dopo l'episodio del prete morto della bambola sta succedendo cose strane, si sentono nei vicoli persone che gridano si trovano animali morti sgozzati e quindi la polizia di Los Santos ha aumentato i controlli e tra l'altro la cosa di cui stiamo discutendo seriamente, come vedete in questo momento siamo Albert, il miglior amico di Ronaldo Junior per chi non lo sapesse, la cosa grave è che non troviamo Ronaldo Junior da nessuna parte, il suo telefono è out, nessuno lo vede da qualche giorno e siamo seriamente preoccupati di quello che è successo, dato che tutti quanti abbiamo avuto l'esperienza mistica con Annabelle, quindi se non avete visto il primo episodio andate a vederlo ragazzi che sta sul canale, ve lo lascio comunque in descrizione, ci potrebbero essere seriamente dei seri problemi, quindi a questo punto non sappiamo bene come muoverci, però dato che di notte succedono delle brutte cose, almeno da quanto è uscito nel report della polizia, adesso cerchiamo magari di notte di capire se Ronaldo Junior c'entra in queste situazioni, il nostro amico sta dicendo di lasciarlo stare, ma sei impazzito, quindi me ne vado a casa va andate a cagare, se volete, tanto lei non viene perché ha paura, Alex stasera parte con i suoi genitori, Francis la mamma non lo fa uscire di venerdì sera, che poi me ne dia weekend, questo è un fifone, ma tenete un pugno va, se sentisse Ronaldo Junior si incazzerebbe, si vuoi fare a botte? vuoi fare a botte ragazzi non fate a botte per Ronaldo Junior, vuoi fare a botte? ah, no vabbè dai basta, mi ne vado prima che creo troppo flame, vabbè ragazzi quanto pare questo video lo giocheremo con Albert, il migliore amico di Ronaldo Junior, vabbè ragazzi siamo arrivati a casa, non c'è resta altro che entrare, aspettiamo che diventi notte, ah ecco ve lo stavo appunto per dire, è notte e come vedete ci sono già diverse pattuglie in giro, proprio perché noi abitiamo vicino a casa di Francis che è qua di fronte e alle spalle c'è la chiesa dove appunto è il cimitero, dove appunto è successo il misfatto, e la polizia appunto è indetto una specie di pattuglie notturne, come vedete qui c'è un'auto, lì ce ne sta un'altra, lì in fondo un'altra ancora e penso che a parte ne stiano altre, proprio perché c'è qualcosa che puzza, infatti nessuno gira di notte, a parte la polizia e chi lavora, vedete qui ci sta un'altra auto della polizia, ferma, lì ne sta un'altra, lì in fondo, non so se la vedete, insomma ragazzi lo santo sale aggiormente blindata, dopo le orrendi fatte appunto del prete sgozzato, degli animali e delle persone morte, trovate sgozzate nei vicoli, la gente ha paura e non sta più scendo di casa, infatti c'è poca gente ma forse tra un po' non ci sarà poco più nessuno, ragazzi io però devo trovare il mio amico Ronaldo Junior, quindi seguiremo magari delle urla, qualsiasi cosa che possa aiutarci a trovarlo, sono tizi poco raccomandabili però va bene, vedete ragazzi questi vicoli succedono, le brutte cose, posso chiedere a questo, mi scusi signor Barbone, voglio chiedermi un'informazione, hai per caso visto un ragazzino basso, capelli corti, muro, no, leggermente no, dice che non l'ha visto e che dovremmo andare a casa, non ha tutti i torti, sicuramente non era uno scherzo, le strade si sono letteralmente svuotate, a parte le donne di facili costumi, ragazzi ragazzi che fanno after, insomma ragazzi, gente che gira di notte, in ogni caso tutto ciò io devo cercare il mio migliore amico Ronaldo Junior, ragazzi sento un urlo, aspetta aspetta ascolta, sento un urlo, ragazzi ho sentito un urlo, ve lo giuro ho sentito un urlo, proveniva da qua, da qua vicino, potrebbe essere il nostro amico, vediamo, oddio ragazzi è Ronaldo Junior, oddio, ragazzi ma non sarà mica la bambola quella, oddio ragazzi, devo cercare di fare il giro, facciamo il giro, andiamo a vedere meglio, vai 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 vai, oddio ragazzi, non credo a quello che sto vedendo, sembra tipo che, allora vedo una persona lì sotto, oh mio dio, ragazzi sono Ronaldo Junior e Annabelle, what the fuck, che cazzo, allora vedo una persona da qui esce del fumo rosso, sembra come se, non lo so ragazzi, stanno facendo un rituale, lo stanno sacrificando, oh mio dio, oh mio dio ma, che diavolo, oddio ragazzi sta aprendo tutto fuoco, ma Ronaldo Junior è sparito, oddio, sento i pompieri arrivare, forse dovremmo svignarci, svigniamoci, ok, la situazione è molto più grave di quanto pensassi, forse ora che vado a consultare un prete è anche il prima possibile, non pensavo di vedere una cosa del genere, ragazzi siamo venuti subito in chiesa a parlare con i pieti, sperando non ci siano presenze sinistre, qualcos'altro che tanto sembra uguale al prete che è morto, vabbè sono tutti uguali questi preti, col colletto, la sciarpa, da pastore, i capelli bianchi, allora ragazzi stiamo per l'appunto discutendo, perché comunque il prete sa quello che sta succedendo e il prete è piuttosto preoccupato, dice che l'unico modo è cercare il ragazzo, come praticare un esorcismo, ma ha solo 13 anni, che poi tecnicamente anche io sono stato stregato, ma io non ho risentito di nulla, però Ronaldo Junior, se ben ricordate nello scorso video ragazzi, era tipo rimasto più tempo ed era rimasto sospeso per aria con la bambola, non si sa cosa sia successo, il prete dice che dobbiamo distruggere la bambola come prima cosa e va esorcizzato il ragazzo, ragazzi abbiamo ideato un piano col prete, dobbiamo farci cercare da Ronaldo Junior o forse lui cercherà noi, perché noi andremo in un vicolo adesso buio e chiameremo il prete e tenterà di fare un esorcismo in live, quindi ho qualcosa del genere ragazzi, vorrei cercare un attimo di capire, ragazzi sinceramente ho paura di stare qua, ma il petto mi ha detto di andare in un posto isolato, oddio io ho una paura a cane ragazzi veramente, Ronaldo Junior, se sei tu non farmi nel male, sento, sento, sento dei passi ragazzi, oh, chi è? chiamo Ronaldo Junior, non sto capendo bene cosa sta succedendo, ma quanto pare è stato impossessato, la sua faccia, che diavolo ha in faccia? Siamo tipo stregato, la sua faccia e le sue mani sono totalmente stregate ragazzi e la bambola l'ha impossessato e ha il compito di portare più anime possibili, quindi abbiamo abbiamo trovato la nostra prossima vittima, adesso, ma quello è Albert, è una bambola certo di fare così e non faccio distinzioni per nessuno, Albert, Albert sta dicendo che non dobbiamo prendere la sua anima, mi dispiace Albert, devo farlo, quindi preparati, ora sto per prendere la tua anima, c'è qualcosa che non va ragazzi, Albert dice fai pure, c'è qualcosa di strano, vabbè, facciamolo lo stesso, diavolo, non riesco a muovermi, eppure c'ho i poteri del diavolo, perché non riesco a muovermi, ma che, Albert, che hai fatto? Oddio ragazzi, non riesco a muovermi, devo chiamare Annabel forse, no, ma che, non riesco, ragazzi non riesco più a muovere, ve lo giuro, ah, dunque prete, cosa volevate, pensavate per caso di cercare di esorcizzarmi così, oddio, che sta succedendo? Ah, Albert Junior, che cos'hai? Ok ragazzi, sembra che mi stiano esorcizzando, non riesco a muovermi, no, no, devo chiamare Annabel, devo chiamare Annabel, devo chiamare Annabel, telepaticamente, è ora di usare forse il potere del diavolo che Annabel ci ha concesso, siete pronti a bruciare l'inferno, e per prendere adesso prenderò le vostre anime, è ora di liberare il potere del diavolo, ragazzi Ronaldo Junior, non so che sta, vi giuro mai visto Ronaldo Junior così ragazzi, fa paura, sta tremando tutto, sta tremando tutto, oh mio dio, sta tremando tutto, ve lo giuro, non so se si vede, ma sta letteralmente tremando tutto, quello che va intorno a Ronaldo Junior viene praticamente spinto e messo all'angolo, lo stesso, oddio, oddio, il prete, l'ha, l'ha ucciso, no, non fare del male ad Albert, oddio ragazzi, oddio, lo stai possessando, oh mio dio, oh mio dio, forza ragazzi, è ora di darmi la tua anima, oddio ragazzi, oddio, Ronaldo Junior come mi pare, questo è il tuo migliore amico, non ci credo ragazzi, lo stai impossessando, Albert sta letteralmente per essere torturato, messo all'angolino, oddio, oh mio dio, sta parlando tutto, qui ci vuole il prete, dov'è il prete, quanto serve, ma che, non riesco più a impossessarmi di lui ragazzi, la mia modalità con le fiamme è scomparsa, ancora questo prete, ancora, oddio ragazzi, non mi riesco a muovere, non mi riesco a muovere, guardate, mi muovo a scatti, ragazzi penso che mi stia esorcizzando, oddio, 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 oddio ragazzi, non chieda quello che sta succedendo, oddio, sto avendo una paura amata ragazzi, sta bruciando tutto il prete, sta continuando l'esorcismo, oddio ragazzi, non ci posso credere, forse dovrei allontanarmi, allontanati Albert, allontanati, abbiamo perso, abbiamo perso parecchio sangue ragazzi, ma stiamo per morire, alla prego, faccia presto, non ce la faccio più, ragazzi non ce la fa più, stia per essere esorcizzato, sta uscendo tutto il demonio che penso che era in lui, io sono quasi allo stremo, sono ad idratato, sto per morire, povero Ronaldo Junior, dai Ronaldo Junior ce la puoi fare, combattilo, sei più forte di lui, forza amico, forza amico, vengo vicino a te, ce la puoi fare, combattilo Ronaldo Junior, sei più forte di lui, oddio, scopra sul fumo, basta, prete, basta, mi stanno sparendo, Ronaldo Junior sei vivo, ehi, amico, Ronaldo Junior, sì, sì ragazzi, sei ripreso, Ronaldo Junior sei ancora vivo, ragazzi, vedete, sta chiedendo se sta bene perché la scena è stata orribile, tutto il fuoco qui, Ronaldo Junior per aria, come se tipo gli stia sciuscendo tutto quello che aveva dentro, ragazzi, è stato incredibile, è stato incredibile, Ronaldo Junior sembra essere tornata alla sua normalità, ovviamente è un po' scosso, questo ci credo perché nessuno ne era conoscenza, meno male che il prete ci ha aiutato, un bellissimo pollicione in su, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video con Ronaldo Junior, ovviamente commentare il video e condividere con i vostri amici, fatemi sapere se vi è piaciuto. Annabella, ragazzi, sembra essere scomparso una volta per tutte, quindi molto probabilmente anche grazie al prete che ci ha aiutato, purtroppo Annabella non si è uscita a trovarla, ma riportate che abbiamo, appunto, liberato Ronaldo Junior. Io vi ricordo, appunto, di seguirmi su Instagram, ragazzi, ci mettete solamente due secondi, mi raccomando, due soli secondi, vi basta cercare Chioccio aria Lentoni e vi voglio seguire. Dai, ragazzi, il video vi è piaciuto, è stato un video speciale, mettimi a seguire così vi mette aggiornati su tutti i prossimi video e vi posso anche salutare. Quale, ragazzo, grazie a tutti per stati con me, anche per quest'oggi, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!